Ascolta Radio Live GP, la prima web radio italiana sul mondo dei motori. Motorbike Circuit, la passione corre su due luoghi. Amici di Live GP.it, buonasera e benvenuti alla puntata numero 230 di Motorbike Circuit, il consueto appuntamento del martedì sera dedicato al mondo delle due ruote. Marco Pezzoni come sempre in diretta con voi e a farmi compagnia in questa diretta lo vedete qua sotto di me e Alex di Bisceglia. Ciao Marco, buongiorno a tutti. Avete già intravisto il primo ospite di questa puntata che è Fausto Cresni, dopo lo introduciamo, ma prima di partire con la diretta ovviamente i contatti per seguirci, il nostro sito www.livegp.it per tutte le notizie riguardanti il mondo dei motori, la pagina Facebook livegp.it sulla quale trovate la diretta streaming di questa puntata, il canale YouTube, perché siamo in diretta anche sul canale YouTube di livegp.it, i contatti Twitter dall'hashtag la radio dei motori, piaccio alla radio dell'agp.it per interagire da Twitter, Google Plus non c'è più, tutti i social e anche il podcast su Spotify. E ovviamente entriamo in diretta perché lo riconosce subito, è il team owner, chiamiamolo team owner di Cresni Racing per quanto riguarda MotoGP, Moto2 e Moto3, ovviamente Fausto Cresni. Ciao Fausto! Ciao, ciao ragazzi! Come va? Benvenuto e bentornato a Motorbike Circus per questa prima volta visiva. Benissimo! Dopo varie puntate telefoniche è una prima volta visiva, visto che comunque Fausto per quest'anno il circuito non ci si potrà vedere, per cui ci limitiamo. Mai dire mai! Mai dire mai! E allora? Mai dire mai! Ora partiremo così, ma poi magari, tra l'altro facendo, si potrà fare qualcosa di meglio, quindi io non sarei ancora disperato fino a rassegnato. Intanto ci preoccupiamo però, poi dopo vediamo semmai si è migliorata la situazione, nel dubbio intanto noi ci preoccupiamo. E allora, Fausto, iniziamo con le notizie di giornata, ovviamente il rinnovo per due anni di Aleish con Aprilia. Beh, devo dire che è una risorsa assolutamente indispensabile per Aprilia. Aleish ha dimostrato in questi anni grande devozione, passione e attaccamento al marchio e anche, diciamo, ha dato molte informazioni, molte indicazioni per fare sviluppare questa moto nella direzione corretta. Quindi devo dire che è abbastanza naturale, un pilota che è molto forte, è veloce, ha voglia, è sempre, si mette sempre in prima linea, quindi come si faceva non fare. Credo che per Aprilia sia un punto di partenza molto importante, proprio perché avere un pilota di esperienza, avere un pilota che conosce tutta la storia di Aprilia MotoGP praticamente da un po' di anni è fondamentale, è fondamentale per il sviluppo, è fondamentale per arrivare ad avere dei risultati come Aprilia si aspetta. Alex, a te che sei quasi omonimo di Aleish. Sì, quasi, mi manca una I e circa 15 secondi al giro sul cronometro che forse avrei, la I rinuncerei ma i secondi al giro me li prenderei volentieri. Fausto, raccontaci un pochino di questa nuova Aprilia perché il mercato in questo momento si è mosso in un modo un po' atipico perché ovviamente non c'è modo neppure di comprovare le prestazioni dei piloti se non ci fanno scendere in pista quindi c'è poco che si possa fare. In più, voi avete combattuto una battaglia importante per quanto riguardava il congelamento dei motori. A che punto siete con lo sviluppo del nuovo V90? Beh, diciamo, è stato un po' bloccato da questo Covid perché poi l'azienda Aprilia è rimasta chiusa per diversi mesi quindi di conseguenza anche lì tutto si è un po' bloccato e fermato. Devo dire che i primi responsori di questa moto sono stati molto buoni certamente a alcuni problemi di gioventù che è normale che esistano e ci siano e quindi adesso in poco tempo ovviamente tutti gli uomini in Aprilia sono chiamati a fare un grande lavoro un grande lavoro anche perché poi a fine mese ci sarà il congelamento dei motori e quindi dopo quelli saranno i motori che dovremmo utilizzare quest'anno quindi sicuramente una grande rincorsa domani saremo a Misano domani o Mani Alto per fare un test proprio con Brad Smith che proveranno diverse moto in 2020 e quindi questo proprio in funzione di poter poi domani avere il congelamento del motoro domani in senso a fine mese per poi avere informazione per poter configurare il motoro definitivo però a tutti gli effetti tutto il prototipo in assoluto Alecce si è dichiarato comunque entusiasta dei passi avanti si dice che comunque la differenza sia eclatante proprio rispetto al modello di 2019 vuol dire che saremo un po' più vicini a una posizione stabile nella top 10? beh la moto è nettamente migliorata diciamo non voglio dire grande sorpresa anche nostra perché ovviamente tutti gli ingegneri lavorano con l'esperanza di poter avere preso la strada giusta diciamo che la moto è andata in pista senza nemmeno fare uno shutdown prima a Sepang e a Sepang è andata subito molto veloce e ovviamente ci aspettavamo un ulteriore test in un'altra pista per avere un po' di conferma perché sai una pista solo ti dice delle cose ma anche se Sepang è una pista dove le informazioni che prendi in quella pista sono buone sempre e diciamo che il Qatar ha riconfermato anche la bontà di questa moto e devo dire è una moto completamente rivista, rifatta rifatto completamente il motore rivisto completamente il telaio di normale o di cambiabile la moto 2019 praticamente è rimasto solo rimasto sul serbatoio quindi questa è una cosa molto positiva devo dire che la moto è nata sembra molto bene e ha risposto subito molto bene a ciò che il pilota voleva cioè le richieste che erano state fatte sulla moto vecchia in realtà le moto nuove se le trovate subito poi certamente ancora un po' di messa a punto ragazzi servirà servirà un po' di tempo c'è molto entusiasmo c'è molta voglia di vedere questa moto essere finalmente competitiva io credo che potremmo essere stabilmente molto più competitivi e se saremo molto più competitivi come io penso potremmo lottare anche nelle posizioni che contano quelle che diciamo tutti ambiscono quindi ovviamente mi piacerebbe molto vedere Aprilia almeno sul podio credo che sono merito anche per tutto lo sforzo che tutta l'azienda e tutti gli uomini Aprilia hanno fatto infatti adesso stanno facendo praticamente adesso che sta uscendo la bozza di campionato ho visto che praticamente Carmelo Espeleta progettava di avere un massimo ma proprio un massimo di 5 o 6 motori in base a se si superano i 12 o le 14 tappe per tutta quanta la stagione non sono un po' pochi con così pochi chilometri di test nel senso tu sei tranquillo al riguardo? Beh tranquillo non è nessuno mai e quindi tanto meno noi perché ripeto avendo un motore così nuovo è più facile che appare in piccoli inconvenienti che ti possono limitare anche in queste cose quindi certamente come dicevo gli uomini Aprilia stanno lavorando veramente molto diciamo sono molto impegnati proprio per cercare più affidabilità possibile e più sviluppo possibile quindi è un lavoro fatto certosì in questo momento ed è fatica a dare delle risposte e dirti cosa succederà durante il campionato perché non so esattamente come potrà andare questa moto un po' sono tante robe da scoprire sicuramente avremo credo io soddisfazione ma anche problemi quindi sarà un po' da andarci dietro mano a mano che le cose succedano ecco senti nel tuo frangente Fausto peraltro che tu comunque hai un team molto ampio tra Moto2 e Moto3 e tutto quanto c'è anche una certa calmierazione per quanto riguarda ovviamente il personale come ti stai organizzando a riguardo perché comunque il paddock sarà estremamente ridotto anche per quanto riguarda il personale tu riesci a scambiare tecnici tra MotoGP Moto2 e Moto3 per avere un po' più di sinergia oppure ogni squadra è un compartimento stagno no ogni squadra lavora comparti stagni anche perché non ci sono i tempi tecnici per poter fare altre cose quindi porteremo le squadre per fortuna diciamo che con Aprilia siamo riusciti a ottenere il numero massimo di persone come i fattori team che sono 45 persone in totale come staff per la MotoGP e quindi poi andremo con 12 e 12 per la Moto3 e Moto2 e 6 persone per la MotoE quindi con queste dobbiamo fare ma diciamo una regola uguale per tutti e quindi tutto sommato mi sento di dire che siamo abbastanza a posto abbastanza coperti certo ci sono tante regole diverse e non so come sarà sicuramente sarà molto bello ritornare e non vedo l'ora che rinissi questo campionato perché ne abbiamo tutti quanti bisogno di vedere le moto in pista noi di fare il nostro mestiere e credo che la prima volta che andrò in pista avrò un bel sorriso perché ne ho proprio voglia ecco e poi ci hanno lasciato con quella collina in bocca perché Moto2 e Moto3 hanno corso in Qatar eravamo tutti quanti contenti finalmente ricominciava la stagione io avevo organizzato la solita pizza a casa con tutti gli amici e tutti quanti carichi e poi non ha girato tu pensi che io che io ero tornato dai test di MotoGP e dovevo ritornare per la gara e quindi non ho non ho partecipato alle gare le ho partecipate da casa sul divano e devo dire che non è molto bello farlo dal divano di casa non è la stessa lo dice a noi che non ci fanno venire in pista quest'anno siamo preoccupatissimi guarda lo dicevo a posta perché vi volevo fare un po' di grazie Paolo una domanda dalla nostra collega Giulia che ti chiede cosa ti aspetti nella totalità di questo 2020 un po' rattoppato tra MotoGP Moto2 Moto3 ovviamente la MotoE e anche il CIV ovviamente perché chiaramente c'è anche la tua struttura del CIV beh guarda partirei dal CIV che è la prima categoria che correrà tra l'altro anche io credo che abbiamo un buon team Zannoni non ha bisogno di presentazioni perché è un pilota che ha vinto Moto nel CIV e sarà la prima volta che correrà con i nostri colori io credo che lui ovviamente ha un'esperienza ovviamente ci aspettiamo molto da lui vogliamo dargli una moto competitiva e una moto per vincere e sicuramente ci proveremo poi abbiamo Natali Natali che comunque è un debuttante l'anno scorso scorreva nella 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 prima 8-3 e ovviamente è un debuttante in questa categoria purtroppo quest'anno abbiamo dovuto fare pochissimi test quindi faremo proprio questa settimana il secondo test dell'anno e devo dire che siamo un po' indietro per questo per i ragazzi che non hanno esperienza ovviamente sono girare sarebbe stato molto importante però diciamo che è un po' così per tutti quindi sicuramente avrà da sfruttare anche Natali un po' l'esperienza di Kevin che sicuramente gli farà bene poi avremo Giombini con 450 sempre con telaio Honda con una moto per noi nuova è un progetto che devo dire per tutti gli appassionati con me mi piace perché c'è stato un bel po' da lavorare vedere i miei ragazzi fare questa moto e metterla in piedi è stata una bella una bella esperienza e quindi questo sarà un po' ovviamente con quattro gare sono un po' pochine però questo è dobbiamo contentarci è un anno un anno bisessivo un anno particolare un anno strano vediamo vediamo intanto di cominciare per quanto riguarda Moto3 mondiale ovviamente credo che Rodrigo è un pilota che può dire la sua per un campionato e ha bisogno nella prima gara era un po' ansioso perché aveva bisogno di finirla aveva bisogno e quindi diciamo che io credo che lui non abbia sfruttato al 100% le sue potenzialità e anzi aveva molta paura di non finire la gara e quindi va benissimo così ha un compagno di squadra Alcova molto giovane ma molto eroente molto capace devo dire perché ha dimostrato al primo gran premio di andare già velocissimo e potersi giocare già i primi posti di quella categoria quindi devo dire che mi sento di poter dire che ho una bella squadra una squadra che potrebbe fare molto bene quest'anno e ovviamente il nostro obiettivo è sempre quello di lottare per il campionato del mondo per quanto riguarda Moto2 beh abbiamo fatto un grande sforzo abbiamo raddoppiato la squadra abbiamo portato Bulga con noi un pilota che ha un anno sarà il suo secondo anno di Moto2 speriamo che possa evolvere velocemente ovviamente deve conoscere un po' la squadra tutto e questo sicuramente ci fa perdere un po' più di tempo devo dire che ha un buon compagno di squadra perché Edgar Ponce per me oltre ad essere il campione in carica della Moto2 Cerv è un pilota secondo me formato e buono veloce credo che potrà fare molto bene anche lui ovviamente siamo un peggio in ritardo con la messa a punto diciamo è stato un anno difficile per noi però siamo pronti e sono convinto che potremo fare anche qui bene non è che dico che cosa potremmo fare è difficile dirlo abbiamo dei piloti che possono anche sbalordirsi come potremmo anche un po' un po' faticare come abbiamo fatto nella prima gara sicuramente la prima gara mi sento di dire che non è nel nostro standard noi possiamo fare abbastanza meglio abbiamo sia organizzazione che sia capacità tecniche che background per poter fare molto meglio quindi dai noi siamo pronti da un po' che siamo pronti ma tanto che siamo pronti e invece per quanto riguarda la MotoGP Fausto cosa ti aspetti abbiamo parlato prima però volevo tornare un attimo a una questione lo so che come dicevi prima fuori onda è un po' scomodo parlarne ma voglio chiederti perché arriva da Fabrizio l'altro nostro collega cosa ne pensi in generale della situazione di Andrea Iannone mi dispiace spero che finisca presto nel senso che almeno ci sia questa sentenza che sia definitiva che possa spero io ovviamente ma sono anche di parte chiaramente Andrea dimostrare la sua innocenza nella speranza che possa ritornare a fare il suo mestiere questa è una mia speranza ovviamente ovviamente ci sono le persone competenti che dovranno giudicare questo e io non voglio entrare in merito ovviamente però credo che già un anno e mezzo è veramente tantissimo perché vuol dire due anni di attività e quindi ora sono stati chiesti addirittura quattro vuol dire che la carriera di un pilota in quel caso è segnata quindi ovviamente mi dispiacerebbe perché è ritornato non ti sento ok però Fausto a questo punto però viene un altro dubbio nel senso adesso che è stata chiesto ci senti? Marco prova a vedere se sente te ci senti Fausto? Fausto ci senti? è caduto eccolo Fausto ecco eccolo eccolo mi senti? sì sì Fausto hai mutato Fausto ok noi ti sentiamo ti sentiamo Fausto lui no io vi sento ah ci senti? pronto ci senti Fausto? no ok aspetta prova a togliere l'ora di inserirlo vedi se rientra aspetta vediamo il bello della diretta è uscito lui diretto va bene era interessante era interessante in questo frangente chiedere una cosa importante Marco più che altro perché togliendo la io ormai ho terminato le parole per le sentenze che stanno dando Andrea Iannone mi sembra una follia però l'anno prossimo facciamo dieci anni di pena sì non è che vabbè andiamo oltre il problema principale è che adesso questo nuovo questa nuova richiesta della UADA di prolungare ulteriormente Fausto? eccoci ci senti? scusate non mi sentivo più eccoci Fausto chiedevo perché poi adesso facevo un altro tipo di ragionamento lasciando perdere il contenuto della sentenza il problema che adesso è stato chiesto diciamo un aggravamento ha prolungato ulteriormente i tempi perché adesso bisognerà fare ricorso sull'ennesima richiesta della UADA e le tempistiche sono strette tu che cosa hai intenzione di fare prendi un sostituto per Andrea almeno per la prima la gara perché difficilmente si riuscirà a fare il tempo poi i tempi sono vivi beh Aprilio ovviamente allora la questione piloti è legata soprattutto alla casa madre quindi ad Aprilia quindi è Aprilia che sceglie e che fa le sue e che prende questo tipo di decisioni e ovviamente per quanto riguarda in questo momento Aprilia ha un collaboratore che è Bradley Smith e sicuramente sarà Bradley Smith a fare almeno le prime gare o la prima gara insomma ecco quindi speriamo di avere ovviamente sai qui cerchi sempre di allungare un attimo per capire se riesci a ad avere una risposta definitiva nella speranza che magari possa andare bene per Andrea e ad averlo di nuovo in pista perché per noi è un valore molto importante il valore di Andrea averlo anche lui a fianco per lo sviluppo sarebbe fondamentale per essere più veloci nello sviluppo ma anche per avere più informazioni ancora quindi lo considero anche questo un danno non indifferente soprattutto per una casa come Aprilia che sta sviluppando una moto nuova in questo momento e che ha fatto anche tanti investimenti quindi difficili in più sai prendere un pilota oggi non lo prendi perché non c'è di fatto che possa farti quella parte di stagione 2020 quindi ovviamente in questo momento step by step faremo faremo in funzione di quelle che saranno le informazioni che avremo dai vari enti per quanto riguarda la questione Andrea e noi sì anche perché poi là effettivamente è una cosa che riflettevamo se non ricordo male con Carlo Pernat l'ultima volta è il fatto che comunque il danno non è solamente del campionato il problema pure è che mettiamo che annullano questa sentenza cioè Aprilia e Gresini hanno effettivamente sostenuto un danno per quanto riguarda ovviamente l'assenza di un collaboratore che comunque si paga nel senso in generale comunque lo sviluppo è una parte che ha un costo e che io non ho potuto usufruire perché comunque hai fatto una sentenza per altro per me è assurda però vabbè andiamo oltre il problema come vi organizzerete a riguardo perché poi dopo che cosa fai si può chiedere un rimborso per una cosa del genere una giustificazione valida almeno francamente non credo credo che l'unica roba che puoi fare è riguardarsi sul pilota ma però insomma mi sembra che qui andiamo oltre a ciò che è di mia competenza francamente perché ripeto la questione piloti e cambi anche piloti è una questione che riguarda Aprilia Racing quindi però io credo che quello che noi dovremmo semplicemente fare è capire appena abbiamo le informazioni come muoverci se avremo Andrea molto bene saremo molto molto felici e se non avremo Andrea sapere come fare a ripararsi o comunque cercare di limitare i danni il più possibile questo è l'obiettivo ovviamente ci diventa fondamentale in questa fase ma ovviamente i danni ci sono sono stati fatti già da tempo perché già dei test della della Malesia dove non abbiamo potuto partecipare eravamo solo un pilota e quindi è tutto limitato capisci quindi sicuramente da questo punto di vista ci ha rallentato lo sviluppo ci ha sono tante cose che non sono successe proprio anche esatto va bene grazie mille Fausto grazie con noi grazie ragazzi speriamo a questo punto di vederci presto magari con Andrea Iannone sentiamoci quando io sarò in pista chiamatemi questa è un'ottima idea le uniche interviste che potremo fare le potremo fare tramite Whatsapp praticamente quest'anno a quanto sembra faremo qualche diretta dai questa è una buona idea vi aiuto grazie Pausto ciao 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 ragazzi e allora Alex salutiamo abbiamo salutato Pausto Gresini perché aveva comunque un impegno e andiamo avanti prima di accogliere poi il secondo ospite che troppo qua arriva che è Lucio Pedarcini Alex dobbiamo parlare appunto di quello che sta succedendo anche intorno a Honda perché abbiamo forse la guerra tra Alberto Puig ed Emila Zamora viene da ridere Marco perché mi viene da pensare che le persone quando hanno troppo poco da fare gli vengono in mente idee malsane adesso io dovrei capire esattamente ad Alzamora certe volte che cosa passa per la testa perché la mossa che è stata fatta che è fittizia quanto vuoi perché è probabilmente fittizia quanto vuoi genera un malcontento nei confronti della persona che gestisce colui che ti ha fatto vincere gli ultimi sei titoli mondiali che io dico proprio ma cioè mi sembrava una mossa alla Ducati se devo essere sincero un autogol clamoroso a livello piloti quando ho letto Honda ho detto ah beh hanno sbagliato il titolo e invece è stata proprio Honda andiamo a spiegarlo praticamente c'è una una sostanziale notizia che ha del comunque dei connotati di verità anche se poi probabilmente non se ne farà nulla però ci sono dei connotati di verità in cui Honda sembrerebbe voler avere nel 2021 Paul Espargaro a fianco di di Mark Markets questo comporta tre fattori principali tanto per iniziare KTM ha già smentito e ha detto che no Paul Espargaro rimane con loro e questo sembra anche una cosa commento che è arrivato anche da Pedrosa e soprattutto dai ragazzi del team a chi che le buono dice che lo considerano comunque diciamo il fratello maggiore all'interno del team e quindi viene difficile poi scatta anche il discorso che non è meritocratica come decisione nel senso che va bene Paul Espargaro è un grandissimo pilota ma potrebbe esserlo probabilmente anche Alex Markets che è un campione della Moto2 e tu non hai neanche avuto il tempo di provarlo il pilota non hai potuto proprio in assoluto dare ad Alex Markets la possibilità di dimostrare effettivamente che non è lì perché è il fratello di Mark ma perché è il campione della Moto2 che anche quello ci può stare in più il terzo punto quello più importante è che tu ovviamente hai tirato praticamente hai detto a Mark Markets guarda tu qua dentro non conti nulla e questo è clamorosamente sbagliato perché Mark potrebbe vincere anche con un monopattino alimentato ad aria fresca e quindi mi domanda esattamente quale casa decida dopo peraltro anni di collaborazione cioè Marco il 5x la mossa è molto strana non riesco a capire se è una cosa incentrata al fatto che era necessario avere Alex Markets per avere un rinnovo quadriennale con Mark oppure se stanno cercando in qualche modo proprio di indispettire Mark ma un contratto quadriennale per quanto possa essere lungo ha delle clausole che prevede comunque la possibilità di scenderlo anticipatamente e io presuppongo che Mark non abbia questo grandissimo problema a pagare eventuali penali in frangente del genere per il puro e semplice fatto che giustamente dice cioè è una mancanza ma anche una mancanza di rispetto non è stato dato proprio modo a un pilota di esprimere le sue potenzialità prima ancora di trattare con un altro io il contratto annuale lo posso anche capire ma quest'anno faremo 12 gare cioè quest'anno non funziona così è chiaro che in un'annata normale in questo periodo dell'anno probabilmente qualsiasi team comincerebbe a valutare le prestazioni del proprio pilota e a vedere se ci sono varie valide alternative ma ormai a giochi fatti a tutte le selle fissate per il prossimo anno eppure per quello dopo non ha senso fare una mossa del genere secondo me c'è qualcos'altro sotto non voglio fare il complottista no da quello che si dice in giro pare che Puig lo stesso Puig voglia disfarsi di Cal Cratchlow che non è molto ben visto sia dallo stesso Puig che dai vertici per critiche capisco che Calle è un pilota scomodo la cosa bella di Cal Cratchlow che oltre a delle prestazioni mi parte molto bene perché comunque lui i suoi poti con l'LCR li ha fatti quindi già mi domando esattamente come fai a preferire la Takakina Kagami che tutto quello che ti pare è più preciso e tutto quanto però è pure vero che non ha la stessa velocità è inutile che ci prendiamo in giro ma soprattutto Cal tra cioè tra due anni Massimo si ritira non c'è neanche la fantasia di continuare a correre e tu adesso crei un problema con Mark Markets per toglierti Cal Cratchlow ma chi a me sembra ti ripeto sembra molto più un autogol clamoroso ma proprio clamoroso a livello gestionale che io un manager che mi fa una cosa del genere considererei effettivamente se si trova nella posizione giusta perché hai appena indispettito il campione del mondo in carica degli ultimi sei anni che ha regolato tutta quanta la griglia di partenza ricordiamoci che adesso c'è un Fabio Quartararo molto in forma che potrebbe diventare un ottimo partito per quanto riguarda i prossimi anni è un Mark Markets che ti va in Ducati come in Suzuki vuol dire che tu Honda prima che rivedi il titolo cioè tu ci vuoi anche Polo e Spargaro ma Polo e Spargaro non basta esatto infatti è quello che è quello che potrebbe potrebbe succedere se andasse se andasse così ovvero un Arachiri di Honda che si lascia scappare su un'ambiente in carica e per per tornare a vincere deve dovrà dovrà trovare il prossimo top rider sì ma tu Quartararo l'hai blindato in Yamaha perché Quartararo ormai gli hai dato il team ufficiale ma dove va Fabio ha visto che con la Yamaha si trova bene ha visto che Lorenzo con l'Honda non ci ha capito niente non bisognerebbe fare proprio un pensiero ampio ora dobbiamo chiudere un discorso perché perché guarda un po' che abbiamo è arrivato abbiamo il team owner di mondiale superbike è Lucio Pedercini ciao Lucio ciao ciao a tutti però aspetta Lucio stavamo facendo adesso un piccolo escursus sulla mossa riguardante Paul Espargaro in Honda MotoGP dici la tua da appassionato dai ma non non sono per niente d'accordo anche perché non hanno fatto neanche una gara quindi c'è veramente una la voce del buonsenso lo vedi io l'ho detto per me non si può dire che che Alex non l'ha meritato che cioè devono ancora fare una gara quindi non posso no ma poi soprattutto ha indispettito Mark Marquez senza alcuna motivazione c'è la persona che ha vinto gli ultimi sei titoli mondiali cioè per me è un autogol clamoroso anche secondo me anche se stanno dando molta molta voce in capitolo ad Alberto Pui che però boh non riesco a capire come mai io ho fatto una battuta ho detto sembra sembra una mossa da Ducati questa più che da Honda per quanto riguarda la gestione dei piloti e non non lo so so che c'è stato un po' di di Alberto ha fatto un po' di di casino perché so che anche l'Hospitality HRC non vuole non ha più voluto gente italiana dentro nell'Hospitality un po' di vabbè la siamo che cose che bella che è la Superbike Lucio queste cose a noi non ce ne frega niente il Superbike guarda che bello sì sì guarda ripeto è un discorso veramente che non l'ho capito quando l'ho letta pensavo fosse quelle fuck news che magari adesso escono e così ci sta tanto per fare un po' di audience infatti invece poi alla fine secondo me non accade realmente lo scambio però il soltanto parlarne ha creato un effetto a catena successivo che veramente è andato molto più a discapito del team Honda stesso piuttosto che di un pilota singolo io non l'ho capito devo essere sincero non l'ho proprio capito ah no cioè poi da un team insomma non è da team HRC non da un team privato da un team cioè che poi di MotoGP non di privati non c'è nessuno quindi però magari era più capibile da 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 esatto da HRC no ripeto come hai detto tu prima cioè dove hai un Mark Market che insomma penso che sia abbastanza intoccabile per HRC quindi dai fastidio giusto giusto gli dai fastidio ogni tanto bisogna è come con le ragazze ogni tanto le devi far arrabbiare se no non è più amore capito però rischio il rischio però secondo me c'è adesso a fare molto come che ti lascia rischio cioè poi devi stare in campana perché le top model ci mettono poco a trovare un altro con i più soldi di te è un attimo e allora adesso che abbiamo qua Lucio con noi apriamo il capitolo Superbike perché Lucio anche voi siete quasi pronti a partire quasi perché dico 2 agosto è qua chiamiamolo Comunque 2 agosto c'è una data almeno sì speriamo che la ufficializzino a breve diciamo adesso le ultimissime sono quelle del 2 agosto a Gerez e il 9 agosto a Portimau però di ufficiale è tutto ufficioso anche il 30 agosto ad Aragon però ufficiale ancora non c'è niente noi teniamo buona quella data lì adesso faremo dei test a Barcellona l'8-9 luglio e questi saranno i primi test che facciamo e poi insomma ci prepariamo per essere pronti per Gerez per il caldo torredo di Gerez per il caldo torredo di Gerez esatto esatto infatti sia Gerez che Portimau ma anche Aragon a fine agosto sarà un bel un bel caldo secondo me le gomme esplose proprio stracciate proprio via non c'è problema l'importante è tornare in pista e tornare a correre poi il resto alle temperature rimediamo il caldo che torredo è ghiacciato in qualche modo facciamo perché abbiamo corso abbiamo fatto delle gare magari in Thailandia Malesia che insomma il caldo non c'è problema clamoroso proprio è tornare in pista e magari Lucio anche ai tuoi tempi quando correvi ce ne erano di gare caldissime è vero? sì sì quando si andava in Malesia Malesia era incredibile ma nei primi anni 90 era veramente una cosa era caldo caldo adesso sono stato quando abbiamo fatto l'ultimo anno della Superbike 2016 2017 2017 è molto più vivibile ma vent'anni fa venticinque anni fa secondo me era ancora più forse era l'umidità che era di più però ripeto sono tutti professionisti e quindi come ho detto prima l'importante è tornare a correre poi poi ci adattiamo tutto l'anno scorso in Olanda al sabato non abbiamo corso perché c'era la neve grande ancora me lo ricordo sì sì la piazza torrenziale di Imola esatto quindi insomma alla fine contro il tempo non ci si può andare quindi però l'importante è essere pronti ad ogni venienza vai Alex senti allora Lucio quindi abbiamo detto testa a Barcellona la seconda settimana di la prima o la seconda settimana di luglio ma vi fanno circolare? cioè avete già garanzia di spostare col bilico andare con la squadra al circuito è tutto a posto? sì diciamo che i test che sono test organizzati da Kawasaki da KRT prima dovevano essere la prima data doveva essere il 19-20 giugno però siccome a Valencia scusa in Spagna c'è ancora il lockdown c'è ancora l'obbligo di quarantena e allora hanno spostato a luglio perché diciamo che dal primo di luglio aprono al turismo in Spagna e quindi ci hanno spostato per questo a luglio e in teoria è tutto a posto però peraltro state andando a provare a Barcellona che dovrebbe essere peraltro la new entry di quest'anno del campionato superbike perché fino ad adesso non ci si correva e ci sarebbe finalmente corso io ho anche i biglietti già presi niente proprio niente oltretutto adesso non si capisce se effettivamente farà parte del campionato perché hanno confermato Aragon Erez Portimao Bernou e non mi ricordo altre due tappe comunque rimanendo sempre quella zona però Barcellona ancora sapevo che era in dubbio tu hai news diverse? Mi hai un po' spiazzato con Bernou io quella che so so Ho letto Bernou che era confermata anche no Bernou per la MotoGP forse Alex e figurati se non ci vanno a correre pure sulla superbike tanto rimangono dieci circuiti in tutto quanto l'Europa dove andranno a fare magari doppia tappa forse Magnicour quella che so io come la so io è Gerez Portimao Aragon Barcellona Misano e Magnicour sicure sembra abbastanza sicure sei tappe però stanno lavorando anche sul discorso di ottobre perché al momento ad ottobre non c'è ancora niente quindi sta lavorando anche per far qualcosa a ottobre però ci sarebbe Osher Sleben che pure quella doveva essere l'ingresso di quest'anno però probabilmente per la Germania è tardi il problema è che stiamo andando nel paese caldo nella parte invernale ci stiamo andando d'estate quindi dopo se lasci perdere la Spagna anche Magnicour cioè tu Magnicour a fine ottobre lo fai a nuoto non lo fai cioè piove matematico Magnicour parlano come sempre al 4 di ottobre e questa è la data che so io e la GP a Misano farà dopo la GP il 27 di settembre perché ho sentito addirittura a Misano posticipata fino a novembre roba che non ci sono mai stati in Riviera questi no questa era quella che avevamo fatto quando avevamo spostato da giugno però adesso siccome fa sembra facciano il 13 e 20 settembre la MotoGP a Misano la Superbike farà un po' come fanno a Gerez a Gerez a Gerez fanno il 19 e 26 luglio la MotoGP e il 2 agosto la Superbike e lì a Misano sembra facciano la stessa cosa fare il 13 e 20 settembre la MotoGP e il 27 la Superbike queste sono tutte le voci come ho detto prima sono tante parole tutto ufficioso però anche ieri ho mandato un messaggio ad Orna e anche loro non al momento però come in questo frangente per dirti come abbiamo chiesto prima a Fausto Gresini tu come ti stai organizzando anche per i ricambi perché poi ovviamente ha motori calmerati e bisogna anche capire uno oppure gli acquisti che deve fare durante l'anno perché è inutile che prendo sei motori se poi mi fanno correre otto tappe e me ne calmerano quattro quelli but sì ma diciamo che per quello siamo abbastanza organizzati nel senso con Akira che diciamo il preparatore che fa i motori anche per Cavasacchi Ufficiale ho un accordo che in base ai motori che ritiro e adesso dovremmo una volta che c'è un calendario più definito andrò a a contrattare ecco io avevo noi abbiamo fatto un primo programma un primo un primo preventivo per avere i sette motori che che cioè no addirittura noi cinque motori perché anche l'anno scorso con cinque motori ce l'abbiamo fatta a fare il campionato e e però nel caso mi servisse il sesto era il preventivo e adesso in base alle gare che ci saranno valuteremo se ce la facciamo con tre quattro insomma quelli che saranno quindi adesso praticamente oltre allo step di Barcellona diciamo ancora non è previsto cioè pensi di riuscire a fare un altro test prima del 2 agosto però se già vai la prima o la seconda settimana di luglio a Barcellona difficilmente riesci a incastrare un'altra pista per fare un altro test oppure punti di rimanere magari direttamente in Spagna e poi andare diretto a a Erez adesso stiamo un attimo valutando un discorso che il quattordici quindici o quindici sedici luglio sarebbe un test organizzato da Pirelli Spagna ad Aragon quindi stavamo valutando fare anche quello oppure oppure ho sentito proprio poco fa che che KRP sta organizzando un test dopo la gara di Portimao sempre ad Aragon quindi valutare perché per noi fare il test assieme al team ufficiale è sempre un vantaggio perché se c'è il minimo problema così specialmente a livello di elettronica perché adesso abbiamo insomma ci stiamo un po' preparando per per il proseguo della stagione perché all'inizio insomma è stato un po' abbiamo andato via un po' con la moto un po' all'arimbaggio avevamo detto sì sì è stata la prima gara in allo stagione è stata abbastanza complicata però dicevi della moto un po' costruita all'inizio in realtà a modo suo hai anche un vantaggio perché poi non avendo corso questo tempo in realtà si è un po' rallentato comunque lo sviluppo generale che hanno potuto anche fare gli altri team perché tanta fabbriche chiuse anche i preparatori hanno lavorato il giusto quindi secondo me adesso come adesso non voglio dire che la situazione è cagnerata è chiaro che i team ufficiali qualcosina avranno fatta in fabbrica sicuramente però secondo me i team clienti più o meno no 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 noi sotto questo punto di vista non abbiamo problemi perché alla fine in superbike c'è tutto diciamo ci sono le concession parts quindi non è che si può fare sviluppo cioè come noi abbiamo il telaio Kawasaki il forcellone Kawasaki è una cosa questo nuovo regolamento di Dorna sicuramente ha aiutato aiuta i team i team satelliti diciamo vediamo quello che ha fatto Manuel Cucetti l'anno scorso con Toprak che ha vinto le gare è un team satelliti perché la moto diciamo è molto molto vicina all'ufficiale quello il nostro vantaggio che in Australia appunto siamo andati un po' è stata un po' un'avventura però la tanta esperienza che abbiamo ha permesso di avere tutti i pezzi la moto era a posto insomma non è che se no mancava la leva freno no no infatti c'è il motore era 2020 era già tutto tutto a posto ecco abbiamo solo un po' fatto i salti mortali i miracoli per mettere insieme il tutto in 20 giorni prima di partire che partissero le casse per l'Australia ecco quello è sempre complicato adesso però tu che cosa ti aspetti diciamo ovviamente senza il primo test diventa complicato anche soltanto vedere però a tutti gli effetti non proverete mai escluso che con KRT sarà difficile vedere due o tre case provare nello stesso circuito si va diciamo un pochino alla cieca anche a Erez che cosa ti attendi da quella gara più o meno ma sai allora come ho detto prima abbiamo un pilota che ha molta esperienza Sandro perché in Australia lui il team l'ha conosciuto a parte me e Luca il team l'ha conosciuto a Phillip Island quindi siamo arrivati lì non era mai salito sulla Kawasaki ha fatto i due giorni di test lunedì e martedì e poi in gara si è messo in luce secondo me ha fatto molto bene non era allenato ha avuto un intervento chirurgico alla spalla e quindi ha faticato in gara due alla domenica che se no poteva fare anche qualcosa in più quindi io sono molto molto fiducioso perché questa è stata la prima gara è stato proprio come un test per noi e secondo me l'abbiamo superato molto bene e adesso dobbiamo solo migliorare quello che abbiamo fatto vedere in Australia e ripeto io sono molto fiducioso perché ripeto quando hai gente di esperienza riesci più velocemente ad arrivare al dunque poi la moto grazie all'aiuto di Kawasaki la moto è competitiva infatti parlaci un po' della Kawasaki 2020 visto che siamo in tema com'è la nuova Kawasaki che differenza hai notato? non è cambiato molto è cambiato solo a livello di motore perché poi il resto il motore ha cambiato qualcosa però pochissimo diciamo che la moto è già a livello ciclistica è già un po' di anni che insomma ha sempre è quella sua perché anche l'anno scorso le prime gare quando Ducati era a livello di motore era molto superiore però a livello di ciclistica quando c'erano le piste guidate ha fatto vedere insomma che la moto non si avvitava su se stessa esatto esatto quindi hanno migliorato un po' il discorso motore hanno migliorato un pelino l'elettronica però diciamo che la moto è sempre stata molto competitiva il pacchetto di base in realtà scusa no il pacchetto di base in realtà è ottimo secondo me soprattutto Kawasaki ha un'ottima media nel senso infatti l'unico problema reale di Kawasaki secondo me negli ultimi anni è stato quello di perdere Toprak peraltro per una cosa collaterale come la otto risulta che non è stata proprio una mossa pure quella particolarmente come dire io essendo della famiglia Kawasaki non posso non posso dire nulla sicuro che hanno 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 sbagliato secondo me perché era da tutti si sapeva che era il pilota con più talento nella superbike assolutamente quindi e l'ha dimostrato perché ha salito sulla Yamaha al di là di far subito il record nei test appena salito l'inverno scorso in Australia ok a parte il problema tecnico che ha avuto in gara 2 se no era lì per vincere anche in gara 2 quindi sicuro che che Kawasaki deve mordersi le dita per questa scelta ecco che ripeto Jonathan è sicuramente il pilota più forte però ha 33 anni e qua avevano in casa un ragazzo di 23 24 anni che poteva essere il futuro invece infatti cioè è stato poi peraltro il problema tecnico in realtà Yamaha hanno sbagliato la quantità di benzina è rimasto senza benzina è rimasto allora sì senza benzina è stato un errore di uno dei ragazzi il meccanico purtroppo succede come 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 sbaglia il pilota può sbagliare il meccanico è normale che non è stato un test sì ma mancavano due giri e mezzo mancavano non è che mancavano 400 metri che dici oh due gocce in meno ecco ma lì hanno sbagliato a fare la tara della cosa hanno misurato la benzina col cavalletto e cioè alla fine quei due chili e mezzo due del supporto del serbatoio ha sbagliato è stato un errore però ripeto non lo farà mai più questo errore di quel meccanico adesso c'era c'era un pilota non ricordo chi che praticamente era in test in pista peraltro della superbike dice che praticamente ritornò dopo un giro con il tappo della benzina che si era svitato e tutta la benzina davanti così gli chiesero ma vuoi cambiare il meccanico dice no perché sono sicuro che non lo farà mai più quindi in quel momento tu ti puoi fidare di più di quel meccanico non so se ricordate io c'ero e ci ho corso ma Eddie Lawson quando a Laguna Seca aveva perso le pastiglie perché il meccanico non aveva stretto non aveva stretto le pastiglie di freni davanti e poi dopo la Yamaha voleva cacciarlo questo meccanico Eddie gli ha detto no io lo voglio perché questo qua sicuramente non sbaglierà più in un partito in un settore quindi sai forse non succedono però purtroppo sai sono sono persone umane ripeto è quello che io nella mia squadra ho sempre ho sempre si cerca sempre ma tutti non solo io anche sicuramente anche Yamaha l'ha sempre fatto il discorso che il meccanico è importante quanto il pilota e quindi dopo anzi a volte magari è più importante e quello che c'è da fare è l'essere dare il 100% tutti dal dal gommista a quello che pulisce le carene al cuoco al ragazzo che lavora in sala dell'hospitality tutti per quei quattro giorni lì devono dare il 100% e poi dopo la domenica sera ok se tutti sono consapevoli di aver dato il 100% secondo me tutti siamo contenti se uno non non dà il 100% non va bene esatto allora Lucio apriamo un attimo lo scopo di averti qua con noi oltre a parlare anche di attualità di Superbike è anche parlare un po' di raccontarci anche qualche tuo aneddoto un po' dei tuoi anni passati come pilota in Superbike apriamo un po' il tuo album dei ricordi Lucio è un po' grande sai cosa devo dire è il mio album dei ricordi ho fatto ho fatto dal 98 al 2006 in Superbike 2006 diciamo ho fatto solo le prime due gare del 2006 perché la terza in Spagna Valencia sono caduto al venerdì pomeriggio mi sono mi sono rotto che è stato un po' l'infortunio che mi ha fatto interrompere la mia carriera e quindi ho fatto 176 gare di Mondiale Superbike con la Ducati e in quegli anni lì sono stati momenti belli momenti brutti come un po' in tutte le carriere penso dei motociclisti qual è stata la moto più bella diciamo Ducati che hai guidato 998 998 era dopo ero riuscito a creare un feeling molto molto forte mi sentivo un tutt'uno con quella moto lì e era molto sincera sull'anteriore riuscivi a fare abbastanza quello che non dico quello che volevi però era veramente molto molto sincera e mi piaceva tantissimo poi come sapete io non ho mai guidato moto con elettronica quindi era tutto era tutto il polso esatto tutto qua allora l'altro giorno stavo rivedendo Imola 2001 quindi il primo anno della superbike a Imola come perché siccome mi vorrei comprare un RSV2 stavo vedendo come erano i risultati peraltro in campionato di Aprilia abbiamo visto che quelle sono proprio in modo totalmente diverse però ho detto vabbè mi faccio un'idea come è stato la prima volta di Imola per i piloti da superbike perché quello è un circuito che veniva dalla GP da quando c'era la 500 e poi dopo non ci si è corso per un po' perché comunque è un circuito un po' complicato mettiamola così dice ho visto c'erano tipo 90.000 persone al primo appuntamento di Imola e rischiamo quest'anno di non vederla come è stato Imola in lo tempo Lucio? ma sai io ho un po' di capelli bianchi io a Imola ci avevo corso il primo anno nell'88 con l'RD3 e 50 e quindi sapevo che però era diversa perché c'era ancora c'era ancora il tamburello c'era ancora sì la prima curva il tamburello c'era era un po' diversa non c'erano le prime varianti poi ci ho corso con la con la 500 io con il 502 tempi nel 96 e nel mi sa anche il 97 ho fatto quei due anni lì con il 500 perché con il 500 ti assicuro che era molto più complicata a guidare specialmente e poi fermati alle varianti le varianti erano un casino con il 500 quindi diciamo che quando sono arrivato lì col superbike è stata non dico facile perché tutte le piste sono abbastanza difficili in Imola però rispetto alla 500 era sicuramente più più umidabile poi sai noi è stato bellissimo Imola però io ho l'esperienza anche di Monza che anche a livello di circuito Imola secondo me è 10 volte meglio a livello di guidarlo come pilota però anche il calore che c'era a Monza è sempre stato bello diciamo per la superbike erano due gare veramente interessanti e piacevolissime andare e correrci ecco infatti questa cosa di Monza possibile che non c'è stato nessun tipo di approccio da parte del circuito per trovare un modo comunque per rientrare al campionato cioè sappiamo tutti quanti che il problema principale proprio quello più importante è l'imbuto alla prima variante e al curvone perché ovviamente la distanza non è elevatissima però ci sono state tantissime contrattazioni anche con gli ambientalisti per cercare di portare Monza all'interno del paddock alla fine parliamo di un circuito che comunque 60-70 mila persone delle fa perché soltanto anche solo per l'ambiente voglio dire è possibile che non c'è mai stata un'apertura? eh questo non lo so purtroppo sicuramente avranno fatto ci avranno provato e poi non so le difficoltà che hanno che ci sono si sono trovati contro secondo me penso che Monza è sempre stata una delle delle piste più amate dal mondo superbike e quindi sono sicuro che Dorna ci ha provato a riportarlo però magari gli ambientalisti non lo so chi è che ha messo il bastone tra le ruote non lo so peraltro ricordo sempre ritornando in Amarcord un Jonathan Ray che era ancora in onda e me lo ricordo la CBR credo che fosse tipo 2000 c'era Spiss mi sa 2011 2010 una cosa del genere che lui praticamente va a lungo al curvone quello prima del ritorno sul traguardo la moto gli si impunta lui rimane praticamente fermo all'interno della chiaia la moto gli si impunta salta e passa oltre ai copertoni che c'erano alla fine della cosa e mi ricordo lui che si alza comincia a correre verso dove c'era polvere ma la moto non c'era più e quindi rimane fermo girava a cercare dove la fine della moto che era coperta proprio dall'altro lato della cosa ho riso per due giorni quando ho visto quella scena ero in lacrime bellissimo a me è successo nel 96 al Mugello col 500 mi aveva nel warm up della domenica mattina alla Bucine mi è entrato dentro Okada con la onda ufficiale e quindi ce l'avevo alla mia sinistra non riuscivo a entrare dentro in curva quindi ho impostato un po' un po' largo e c'era una buca mi si è chiusa davanti e ho ruzzolato un po' poi quando mi sono alzato cercavo la moto non c'era praticamente era andata dietro alle gomme dove c'era meno male che c'era la rete perché c'era l'arrabbiata perché sennò se l'hanno portato via i fan passando all'arrabbiata sì esatto mamma mia è vero che belle cose proprio bei tempi mamma mia quanto mi manca mamma mia quanto ci mancherà purtroppo a noi essere essere presenti quest'anno in circuito purtroppo visto che Dorna no Dorna quanto pare sia nella MotoGP che anche il Superbike non vuole non vuole i giornalisti quindi purtroppo saremo confinati qua e le dirette le faremo così sì diciamo sicuro che anche per Dorna non è facile in questo momento è arrivato è arrivato un protocollo la settimana venerdì scorso dove è veramente difficile e loro stanno lavorando duro perché per poter almeno farci tornare in pista poi sicuro che il pubblico o appunto giornalisti come voi al momento saranno un po' più penalizzati però quello che secondo me è molto importante è ritornare in pista perché almeno far vedere che siamo vivi e anche oggi io ero in Cavasacchi Italia che sono andato a fare un saluto a Cavasacchi Italia e parlavo con il dottor Vicarelli e bisogna far vedere che siamo vivi che il nostro mondo è vivo e ci siamo perché altrimenti e se e se dobbiamo sacrificare giornalisti qualche fotografo ci sacrificeremo per la patria non c'è problema però almeno facciamo le gare perché anche quando mi hanno chiesto ma le gare a porte chiuse cioè io sono uno che che mangia pane e moto che sono la passione che ho penso che cioè ce ne siano pochi con la passione che ho io quindi secondo me l'appassionato che venga a vedere una gara in circuito è la cosa più bella che ci possa essere che prima parlavi di Imola io un anno a Imola mi sono tolttolo tutta le 8 alla sera perché dei fan che c'erano cioè perché mi fa piacere però però se siamo di fronte a una a un problema che nessuno si sarebbe mai aspettato nel 2020 e adesso dobbiamo cercare di fare di ottimizzare per cercare di venire fuori e tornare in pista poi se purtroppo se il pubblico non c'è ci sarà l'anno prossimo diciamo ecco l'anno prossimo biglietti scontati per tutti tutto al 30% esatto va benissimo e autografi di Fausto di Lucio Pedercini fino alle 9 di sera però tutti sicuro Lucio una cosa sicuramente nel 98 eri già in Superbike sicuramente ti sarai visto la famosa probabilmente ad Assen la famosa scena di Carl Fogarty e Frankie Kili con Kili in in accappatoria che andavo a cercare di menare Fogarty sì 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 c'ero c'ero la ricordo bene poi sai lì in quei momenti lì sono quei momenti che poi a freddo è tutto più più facile sai cadere l'ultima curva che sei lì per vincere dopo sai dopo ognuno magari pensa che ha ragione uno o quell'altro è stato un incidente di gara secondo me l'errore in quel caso lì l'ha fatto Francesco però sai dopo ognuno la pensa come la reazione è singolare ognuno reagisce come come crede ecco ti venga a cercare nel dubbio poi dopo vediamo un attimino però io intanto al box ti vengo a cercare esatto c'era Fogarty che raccontava di quell'episodio vedeva Achilli con gli occhi con gli occhi proprio spiritati è rimasto deve essere brutto vedere Francesco arrabbiato davanti non deve essere proprio una bella scena sono sicuro appunto sono contatti di gara che purtroppo ci sono ci saranno sempre poi a volte non sono voluti magari capita anche l'errore quindi insomma dopo Francesco è sempre stato un pilota molto corretto quindi non e anche anche Fogarty lo sa questo quindi insomma non penso che ci sia solo un attimo di attrito lì a caldo però poi giusto una puntina d'attrito proprio bastava un po' di svitolo l'avevamo risolto una puntina proprio va bene succedono succedono anch'io anche a me è successo una volta sempre ad Assen incontrò i Corsar che ho avuto un attimo di mi ha passato io stavo facendo il mio giro veloce lui da dietro arrivava andava più forte lui era la moto ufficiale io e quindi mi ha passato prima del curvone dell'ultimo curvone e poi mi ha fatto il dito e allora è entrato in box e alla fine sono entrato in box anch'io e allora c'era Tardozzi c'era Davide cioè io non stavo andando non ho fatto una manovra che magari stava andando piano e ho ostacolato io stavo facendo il mio giro veloce se lui gira mezzo secondo più forte non so cosa farci se gli ho ostacolato può capitare certo non è che c'ho lo specchietto quindi però da quel momento lì Troy Corsar è diventato mio carissimo amico perché mi ha visto un po' arrabbiato un'antichetta alterata come si dice a Roma proprio una puntina proprio esatto bella a caldo dopo un giro veloce amico io poi dopo la rischi eh sì sì era così aveva la moto picciata quella senza filtro esatto quei vecchi tempi lì poi sono finiti peraltro sempre ritornando al discorso della marco sono finiti praticamente con l'ultima diciamo effusione un po' più forte che abbiamo visto che è quella Biaggi Melandri credo sempre ad assen può darsi che sia assen il problema cioè in Olanda c'è un po' più di non era assen era Donington era Donington Donington bravo era Donington Park era Donington Park in qualifica si sono beccati Max che si è trovato Melandri che stava davanti con la Yamaha o con BMW non mi ricordo con l'Aprilia con Yamaha era l'anno di Melandri che aveva debuttato in Superbike con Yamaha e si sono trovati nel bors perché c'è stato un alterco e Biaggi hanno dato uno schiaffetto a Melandri che poi Melandri gli andava sotto col sorriso forte telecamera e Max però non è propriamente uno di quelli tranquilli che la dà giù tranquilla perché c'è la telecamera nel dubbio è la data come si dice a Roma che bei tempi ragazzi mamma mia succedono dai esatto va bene grazie mille Lucio anche per avermi grazie Lucio tuo album dei ricordi è bene l'album ti ho detto ce n'è da sfogliare ci sono un po' di cose ce ne sarebbero di cose da dire però serve troppo tempo abbiamo altre puntate non ti preoccupare tu segnali tutto quello che ti viene in mente che andiamo ad altre puntate facciamo i capitoli facciamo Lucio racconta Lucio Pedercini racconta buona serata Lucio grazie ciao Lucio grazie buona serata ciao ciao e allora Alex in chiudere no bellissimo no è bellissimo perché poi io mi immagino mi immagino una scena cioè andiamo tutti nel traffico con la moto quindi ti può capitare effettivamente che qualche incomprensione con qualche ma io mi immagino che mentre sto là a tirare uno mi passa e mi manda anche a quel paese e stava pure andando più forte di me cioè poi dopo l'altra te lo dico ma esattamente ma che cos'è ma che ti dovevo fare esatto allora Alex prima di chiudere questa puntata dobbiamo dire che dobbiamo dire che con la gara virtuale di Silverstone si è chiuso il pacchetto così diciamo così creato da Dorna delle gare delle gare online che ha visto protagonisti i piloti della MotoGP della MotoE di Moto2 e di Moto3 nello specifico il titolo platonico di campioni di queste gare virtuali va ad Alex Marquez che si prende il titolo ma perde la moto esatto bello grazie per il regalo proprio cioè quello me lo impacchettate per favore esatto poi è vicino l'accordo molto vicino l'accordo tra Valentino Rossi e il team Petronas con Razzali con Razzali che dice sì è molto molto vicino e manca alla prima gara probabilmente dopo la prima gara potrebbe esserci già la già la firma e tra l'altro Fabio Quartararo consiglia proprio a Valentino di di scegliere proprio il team Petronas perché comunque sono un team molto molto preparato sì è carina la cosa che sia un ragazzo di vent'anni che consiglia a Valentino Rossi il team decisamente carina e allora Alex siamo agli sgoccio di questa puntata intanto mi ero dimenticato di salutare Giorgio Miotto che ci aveva mandato un commento un saluto durante la con Davide Giuliano in foto bravo con Davide Giuliano durante la diretta con Lucio Pedercini e allora vediamo se abbiamo dimenticato qualcosa qualche altra notizia ovviamente ne abbiamo parlato prima con con Fausto del caso di Andrea Iannone quindi direi che siamo proprio agli sgoccioli Alex di questa di questa puntata domani domani l'appuntamento è con la nostra Anna Mangione e le sue colleghe per Speedy Woman che avranno un'altra ospite giovedì il quiz il LGP Motor Quiz ormai stiamo andando verso la fine di questo primo di questo nostro primo quiz sul mondo dei su 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 motorsport venerdì virtual driver e poi motorhome quindi Alex io ti ringrazio per avermi fatto compagnia in questa in questa puntata grazie a te Marco e ci sentiamo per martedì prossimo e anche da parte mia Marco Pezzone tutto un saluto e alla prossima ciao 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 ciao